Il treno regionale, delle ore 16.30, proveniente da Rimini, e diretto a Bologna Centrale, arriverà con un ritardo previsto di 120 minuti, perché ci sono le caprette di fanno ciao. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio ritardo. Il treno metrostar, arriverà con un ritardo imprecisato, perché si è perso una ganga di circunvesuviana lo sta minacciando e bullizzando. Ci scusiamo per il disagio. Il treno scudetto italiano, delle ore 15.00 a 49, proveniente dallo stadio San Siro, è diretto allo stadio Tre Fontane, è in perfetto orario al binario 21.00. Ci scusiamo per il disagio. Il treno Italo Alta Tranquillità, delle ore 13.20, proveniente dal Foro Italico di Roma, è diretto agli scavi di Pompei, è in perfetto orario al binario 15.00, invece al binario 13.00. Ferma in tutte le stazioni eccetto, quello che volete. Il treno Frecciazzurra, delle ore 11.34, proveniente da Salerno, è diretto a Napoli Campi Flegrei, è in arrivo al binario 4, anziché al binario 6. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio effettuazione treno. Il treno regionale veloce, previsto in partenza dalla stazione di Pisa Centrale, alle 16.44, oggi è stato effettuato. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione. Avvisiamo i gentili viaggiatori del treno regionale, delle ore 11.49, per Prato Centrale, arriverà con un ritardo previsto di due ore, perché stanno esplodendo le tre carrozze. Ci scusiamo per la tragedia. Il treno Cumana, delle ore 15.20, proveniente da Torre Galeta, è diretto a Monte Santo, arriverà con un ritardo previsto di due ore, a causa della festa dello Scudetto del Napoli nella stazione di Mostra, diversamente da quando già avvisato. Ci scusiamo per il disagio. Il treno Transalpino 73, delle ore 11.21, proveniente da Tre P***, è diretto a Lecco, è in perfetto orario al binario 1. Ci scusiamo per il disagio. Grazie a tutti.